Explosiva Challenge 2021. Questo è il nome dell'iniziativa proposta dall'incubatore di imprese di Torre del Greco Stecca. Una sfida dedicata a coloro che hanno un progetto imprenditoriale nascente ed innovativo. Stecca con i suoi partner accompagneranno le start-up in tutto il processo di creazione del progetto fino al lancio finale. In palio alla start-up vincente. Un percorso di incubazione e accelerazione presso Stecca e partner per un valore di 40 mila euro. L'idea è quella di stimolare il territorio con la valorizzazione di progetti imprenditoriali innovativi. Chiaramente lo facciamo anche un po' per stimolare la produzione imprenditoriale e la produzione di nuovi contenuti a favore delle imprese che hanno sofferto tanto la crisi sanitaria ed economica e quindi abbiamo cercato di costruire un meccanismo che tiene dentro una serie di partner istituzionali e tecnici per accompagnare gli aspiranti imprenditori e le start-up nella costruzione di un progetto imprenditoriale sostenibile ed innovativo. Tra giugno e luglio avranno luogo una serie di workshop tecnici che hanno lo scopo di diffondere una serie di contenuti e di stimoli per i nostri aspiranti imprenditori. C'è un calendario di eventi che è possibile scaricare sul sito di Stecca e sulle pagine social dedicate all'iniziativa di Explosiva e poi a settembre ci sarà una finestra dal 14 settembre al 14 ottobre per la presentazione dei progetti imprenditoriali. Saranno in particolare privilegiati, saranno selezionati delle proposte innovative con tecnologie dedicate alla learning machine, l'internet delle cose, l'intelligenza artificiale, progetti che siano già scalabili oppure già con l'interesse manifestato da parte del mercato e con competenze dimostrabili da parte dei team coerenti chiaramente con quello che è il progetto presentato. Non è la prima iniziativa che facciamo con Stecca ed è per noi molto importante perché tra l'altro insiste in un territorio dove noi siamo storicamente presenti, molti dei nostri studenti prevengono dal Vesuviano e da questa zona e quindi spero di trovare, anzi di far partecipare, di trovare poi tra i partecipanti numerosi dei nostri studenti del territorio. Il sistema delle nostre imprese guarda a questa opportunità, la creazione di nuove imprese e appunto tante nuove idee che si mettono in circolo che per noi sono fondamentali. Ecco, noi ci auguriamo che oggi sia un giorno di ripartenza e faremo la nostra parte come Cossa del Vesuvio per assecondare questo processo. In questo periodo di pandemia abbiamo scoperto quanto è importante e quanto forse siamo anche arretrati su questo aspetto, quindi iniziative del genere sono molto importanti per il territorio. Penso che è un'iniziativa molto interessante soprattutto per chi si aggiudicherà questa iniziativa, quindi è un'occasione da non perdere. Il progetto sarà strutturato in due fasi, la prima che si svolgerà tra giugno e luglio dove si avranno tutti gli incontri prettamente tecnici per definire gli aspetti rilevanti dell'idea imprenditoriale, elaborare un piano economico, programmare strategie di marketing dedicate. Dal 14 settembre al 14 ottobre invece saranno scelti dalla commissione del progetto i dieci finalisti. Abbiamo registrato una posizione quarta tra le start-up più innovative e anche la seconda in ordine di graduatoria come Regione Campania per quelli che sono riusciti poi a realizzare fino in fondo come start-up il proprio progetto imprenditoriale. Quindi significa che l'investimento è stato importante e significativo e farlo qui a Torre del Greco attraverso l'incubatore di impresa stecca che in particolar modo tenterà di fare come accompagnamento alle imprese che vorranno cimentarsi con le idee innovative un focus su quelle che sono le eccellenze locali. La Campania è cresciuta tantissimo in questi ultimi anni, siamo la terza regione per numero di start-up e siamo la seconda regione per start-up under 30, quindi abbiamo delle start-up giovani oltre che tanti giovani. Torre resta un territorio molto dinamico, entrando dentro gli spazi di stecca si respira proprio una bella area nuova, tante energie e noi come Regione Campania sosteniamo moltissimo i nostri ragazzi, il capitale umano e la possibilità proprio di poterli accompagnare, insomma diventare imprenditori di se stessi. Quindi è un'iniziativa che guardiamo con molta attenzione, che accompagneremo e sicuramente oggi insomma è l'in bocca al lupo che va a tutti i ragazzi perché possano insomma partire con dei nuovi percorsi che gli diano delle belle soddisfazioni. È una grande occasione, sono contento che c'è una realtà innovativa sul territorio che riesce a riunire le forze innovative della città perché sulle misure di start-up è stato fatto tantissimo dal governo, nonché agevolato i finanziatori che scelgono le start-up da far crescere sul territorio, quindi bisogna mixare benissimo il lavoro, la proattività che arriva dalle amministrazioni pubbliche, quelle dalle realtà private e le linee governative che incentivano lo sviluppo di start-up innovative. Queste sono iniziative fondamentali, ringrazio Giuliana, responsabile della Stecca, che porta avanti queste iniziative che avranno un corso che parte dal mese di giugno e finirà ottobre per dare la possibilità a delle idee innovative, in particolar modo anche di giovani e la migliore idea poi verrà premiata con un contributo. È il momento di dover ricominciare, di doversi muovere in particolar modo in quella che è proprio l'economia della nostra città, dei nostri territori, della nostra Italia. E quindi è fondamentale questa idea che viene portata avanti dalla Stecca qui a Torre del Greco. Appuntamento con la proclamazione della start-up vincente fissato a fine ottobre. Grazie a tutti.